Musica Ciao a tutti ragazzi Ok basta fare i cogli... Cazzo no Mi sta venendo un colpo Un colpo nel petto Ok no stavo scherzando Ciao a tutti ragazzi Io sono Dynamic E in linea c'è Rector Infatti ragazzi sono io Rector E oggi facciamo il video di ringraziamento di 52 iscritti Alleluia Dovevamo farla 50 iscritti come sempre Perché sempre quando ce l'ho 0 però Questa volta sono andato io a pisciare Quando sono tornato abbiamo visto che c'erano 52 iscritti Cioè scusate ragazzi Non fai ridere Semplicemente Guarda che lo dico a mia mamma eh Che non faccio ridere Poi ti viene a picchiare Sto scherzando Ok Qua per voi ci sono due nuovi sfondi per youtube Andiamo a vedere il numero uno Questo qui Sembra schifoso ma quando lo metteremo sarà meglio E poi ci sarà Vabbè vabbè Poi c'è come si chiama Il cosino Ragazzi vi ringraziamo dal cuore per averci seguito fino a oggi A quello diciamolo dopo Prima aggiorniamo il cosino Prima aggiorniamo Ok quindi aggiorniamo Aggiornamento del canale Sì Modificare Ok parliamo dell'aggiornamento Aspetta prima si ringrazia Poi si fanno gli aggiornamenti No Ah prima facciamo No prima mi trato Alla persona interessa Alla persona interessa Gli aggiornamenti E' come se fosse Una persona ti dà un oggetto Per esempio Ti dà una caramella Te lo mangi E poi lo ringrazio Certo Prima facciamo i fatti Poi ringraziamo Questa è la regola di Ludrick Non so come è la vostra regola Vabbè ormai l'ho messo Vediamo Sta caricando ragazzi Sta caricando Ma che cazzo Perché è venuto così Vabbè non fai niente Lasciami guardare Vabbè L'abbiamo fatto Una linea logica Ok ragazzi Vi ringraziamo dal cuore Per i 52 iscritti Perché appena è nata la pagina Se eravamo a 52 iscritti Infatti Prima eravamo a 51 Quindi Vi ringraziamo Dal cuore Dal cuore Specialmente quelli che commentano Per dirci Ha fatto schifo E' fatto così Brava A noi ci interessano proprio queste cose Se abbiamo fatto schifo Voi lo dovete dire Perché noi lo dobbiamo sapere Che ne abbiamo fatto schifo Così almeno la prossima volta Schifo alle merde Non mi offendo Non mi offendo Come questo ragazzo Qui che mi ha commentato E' Ha commentato qua Su questo video Il ricambiatore secondo Eeeh Niente Pari un ritardo Puoi non sai parlare Dynamic Infatti Infatti da quel giorno Ho capito Che dovevo parlare In modo migliore Eeeh Da quello che mi ha scritto Ricambiatore secondo Che lo ringrazio Eeeh Grazie per il suo commento Eeeh Visto che mi ha fatto capire Che dovevo parlare In modo migliore Quindi Ora lascio la parola Un po' a Un po' a Rector Per dire la verità Non ha ancora cambiato Il modo di parlare Ok comunque Eeeh Abbiamo iniziato A fare Nuove serie Io praticamente Ho preso La serie di FTB 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 Come avete visto Si Che per chi non sa Cosa vuol dire FTB E' Feed the Beast E' Da mangiare A Minam Vuol dire Ah ecco un ragazzo E' Duel Master Duel Gamer Master Ha mandato un messaggio Ha scritto Mi piace Ma quando fate i video Degli hacking Su S4League Rector Eh praticamente Non lo so Dovremmo C'è appena arriva Una hack in mano Non lo facciamo Subito il video Però Ultimamente Non sta arrivando Nessun hack Non lo so perché Perché i creatori Del hack Sono andati a cagare Stanno Stanno Cazzeggiando Ultimamente Perché sono sempre Gli stessi hack E se C'è Ragazzi Ho provato A usare 3-4 hack Mi hanno mandato 3-4 volte L'account Quindi Non ho Molte confidenze Con i nuovi hack Che sono usciti Niente Dobbiamo aspettare Ancora un po' Finché I Rebellation E quegli altri Coglioni Danno da fare Una cosa È vero Eh sì Quindi Non c'è niente Da dire Cosa possiamo dire Giusto Dobbiamo aggiornare Come si chiama L'icona L'icona Di prima faceva schifo Quindi la cambiamo Cioè non è che faceva schifo Era tanto Anche lo sfondo Del canale Quello Era rosa Ragazzi Rosa Io non volevo rosa Ma però Dynamic Quindi l'ha messo Siccome dovevamo insieme Su minecraft Ma quello è venuto dopo Non è che tu vedi il futuro Poi Metti le cose Che avverrà Ah vabbè Ok comunque Abbiamo detto Già un po' di cazzate Perché senza cazzate Non ci riusciamo A parlare Comunque Cosa faremo In futuro In futuro Come avete visto C'è stato Il mio primo unboxing Unboxing E montaggi Un montaggio Da Rector E l'unboxing Da me Del mio nuovo monitor Mio nuovo monitor Della AUK E Più che un unboxing Con le mani Ha fatto con i piedi Scusate Scusate Era il mio primo unboxing Scusate Non c'era nessuno Che mi poteva aiutare Se lo diceva a mi ma Lui mi diceva A voi un ceffone Invece di Lavorare Mi dava una mano No invece Non l'ho chiesto Perché sapevo Che me l'avrebbe detto Quindi Non sono nemmeno andata A chiederglielo E Poi cosa posso dire Niente E Cercare Invece Io farò l'unboxing Della serie da video Che mi arriva Il lunedì Ma abbiamo capito Che non ha una scheda video Sempre che sia un box Lo dici in tutti i video Cazzo Tutti i video Ormai è importante Perché Noi dato che siamo dei gamer Queste cose sono importanti Oh i gamer Siamo i gamer Eeeh 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 Voglio una scheda video Voglio una scheda video Da cent'anni Mi dicevi così Vabbè Sì Sì Vabbè Come avete visto Cioè C'è stata una nuova intro Che Che Una nuova intro Eeeh Da me Che Se volete andare a vedere Potete pure Cioè potete Potete pure Che cazzo Ok lasciamo perdere le cose Sinto Ovviamente Dovremmo continuare Con le recensioni Sui nuovi Cioè Nuovi giochi Arrivati Online Dato che Abbiamo anche la serie Faremo sicuramente Sicuramente faremo Eeeh La review Sul gioco S4 League Eeeh Visto che Eeeh Praticamente abbiamo Grande cose da fare Su S4 League Infatti forse Inizierò Ma anche oggi Non lo so Eeeh Ci saranno anche Molti altri aiutanti In questo video Che faremo Con Anche in collaborazione Con Con I nostri amici Diciamo I nostri vecchi amici Ora sono X Amici Diciamo X Amici Ex amici Ora non sono più amici Ex amici Amici veri Sono ancora Però non sono amici Comunque Se andiamo a vedere Sul nostro Sulla percentuale Del nostro canale Cioè Il 95,3% Eeeh Maschile Che vede il nostro canale E il 4,7% Femminile Che vede il nostro canale Io lo dico Ma perché le femmine Devono essere sempre In Minore Minore Percentualità Io Io ne vorrei di più Comunque Come vedete In prima In prima fila Del nostro canale Se vuoi delle donne In più Dovresti fare I video Quei che fai I trucchi Che cazzo ne so Quelle cose Che fanno la femmine Quindi Tu vuoi fare il frocio I trucchi I trucchi Come tagliare le unghie Eccetera Eccetera No dai sto scherzando E certo Cos'è il secondo Noi siamo Un clan gamer No No Vabbè Un clan gamer Se volete posso fare anche Il come si chiama Il taglia unghie Da gamer Faccio l'unboxing Di quello E poi vi insegno Anche a tagliare le unghie Come tagliare unghie Da gamer Vabbè Non penso che esistam Tagliare unghie Da gamer Ok Quindi Da lunedì prossimo Inizieremo a fare Delle nuove recensioni Sui giochi Questa volta Abbiamo Cioè Forse cambieremo Un po' La modalità Di fare le recensioni Che vi faremo Solo vedere Dei giochi Giocheremo Infatti Dentro Vabbè Giocheremo Uno di noi Perché Se è possibile Giocheremo Anche in due Però Dai Dato che Ha un pc Buona Tutte le cose Buona Ma È un coglione Semplicemente Non sono un coglione Solo che Non ho tempo La scuola è più importante Di youtube ragazzi Questo ve lo dovete mettere in testa Quello si Un attimo Fammi parlare Prima la scuola Poi i video Quindi Se voi Iniziate Lasciate un commento Cazzo Dynamic Che cazzo Dici La scuola fa schifo Invece no Se non ci fosse la scuola Voi non sareste qua A usare internet Non sapreste scrivere Scrivere Infatti vedo molti commenti su youtube Che dicono Odio la scuola Perché non Perché esiste la scuola Infatti io gli scrivo sempre un commento lungo 5 righe Perché la scuola deve esistere Ah ok Comunque Secondo un filosofo Se non C'è Se non mi sbaglio O sono socialista Galileo 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 Galiliano Galileo Galileo Cioè, se non sapete, perché in America hanno sviluppato un chip, un microchip, che praticamente mettendo nel cervello, mettendo il cervello nell'umano, l'umano può prendere, cioè, può avere la conoscenza, cioè, può conoscere tutte le cose che esistono nel mondo. Oh, questa è una figata! Questa è una figata! Assurda! Assurda! Posso imparare il cinese perfetto! Cazzo! Questo sì che è una invenzione! Da gamer! Sì, sì, cazzo! L'unico problema è che il chip probabilmente non è così piccolo da mettere nel cervello, perché non praticamente non dato che non sanno come si taglia il cervello, diciamo. Io lo so come si taglia il cervello! Quindi in futuro, magari noi lo non possiamo nemmeno vedere, dato che noi saremo già morti tra un bel po', tra un bel po'. Quindi questa cosa mi arriverà, che ne so, dopo una centinaia di anni. No, ragazzi, ragazzi, mettiamoci in chiaro! Comunque esiste già una persona, uno esiste già un vecchio, praticamente era un non vedente, e praticamente hanno fatto sempre a lui questa operazione, e dopo l'operazione lui ha potuto vedere il mondo di nuovo. E' solo che vedeva come se fosse un computer, nel senso, avete presente i giochi dove mettete dei occhiali, che vi sembra che... Vabbè, avete capito, non vedo come il primo poco reale, però vede, sì. C'è, uno che vede di nuovo, ragazzi, è una cosa molto bella. Comunque ragazzi, non preoccupatevi, grazie alla ProDynamic si potrà aprire il cervello, vi dico come. Se volete il tutorial, ve lo dico pure, ve lo faccio pure, basterà prendere delle forbici, un cortello, basterà che vi mettete il cortello in testa, poi ve lo apriete piano in piano, senza rovinare il cervello, poi vi tagliate tutte le vene. Per dire, quelle cose che dice Dynamic, non lo fatelo a casa, mai, proprio mai, nemmeno anche per no, vabbè, 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 abbiamo detto tutto che faremo. Io non ho detto, io non ho detto, intanto mettiamoci in chiave, io non ho detto tutto, cazzo, io non ho detto tutto, cazzo, cazzo. Io non ho detto allora, vai, ciao a tutti ragazzi, se volete il mio numero di telefono, potete scriverlo in descrizione, cioè, potete mettere un commento in descrizione dicendo, ciao Dynamic vuole il tuo numero, se vivete in Inghilterra, se no potete andare pure a fanculo, no sto scherzando, se no niente, se no niente. E dico a tutti che, di trasferirsi in Inghilterra, perché? Perché l'Inghilterra è un paese bellissimo, bello, è più bello l'Italia, è vero, però, come dire, c'è un sapore di, come dire, British, questo, posso chiamarlo proprio sapore di British. C'è una connessione da cani, cioè, no, cani in senso buono, cioè, corro, corrono, cioè, poi c'è, poi c'è un upgrade da Tory, in senso buono naturalmente, cioè, perché i Tory sono forti. Guarda che prendi anche in Italia, intanto mettiamo cinchene, in Italia, non c'è, 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 non Ok ciao a tutti ragazzi Alla prossima Ok ciao a tutti ragazzi Alla prossima Parleremo di un altro video Forse a 100 iscritti Forse a 60 iscritti Non si sa mai Quindi da me è tutto Non so da Dynamic Perché forse ha qualcosa da dire Allora ragazzi Vorrei sapere voi cosa vorreste Nel nostro canale Che sicuramente lo vorrebbero in tanti A parte quello Vorrei sapere voi cosa vorreste Quindi ciao a tutti ragazzi Magari vedere Dynamic e Menudo Science 04 Ah si volete vedere Science 04 Ok iniziamo subito il gameplay Se volete Lo volete Non sento Cioè non riesco a sentire Rispondete Rispondete nei commenti Quindi stai Non riesco a sentire Scusate ragazzi Potete iscrivere ora Scusate ragazzi Che allora non lo metto Cioè non lo metto Chiudi porca miseria questo video Ok ciao a tutti ragazzi Vorrei sapere cosa a voi Cosa vorreste voi Sul nostro canale A parte gli hack Ma che ho già detto Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Gameplay hacking O altre cazzate varie Rector vorresti dire qualcosa? No chiudi il video Semplicemente Ok ciao a tutti ragazzi Alla prossima E ciao E ciao Ciao da Dynamic Ciao 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 ragazzi E soprattutto Belle ragazze Anche brutte Tante non mi importa E belle ragazze Tante tutte ragazze Sono belle quindi E ciao a tutti da Belle ragazze Belle ragazze E ragazzi No i ragazzi no Cioè i ragazzi belli Ma che cazzo Ok mi sono perso Ok Basta Ora lo chiudo Basta basta cazzo Ok se no poi Ci confondiamo Ciao a tutti